E sì, effettivamente ci prendo un coccolone importante Che può essere anche eccitante Sì, sì, sì Eccitante oppure Quella può essere una cosa a cui appigliarsi Sì, ora sto a riprovare la stessa attrazione Che prima, gli sto per i anni assotto Però allo stesso tempo Che ne so di chi è Alla fine mi sto a bombare quella di dieci anni fa Capito com'è Eccoci, nuova puntata di Facciamolo Nuova stagione, nuovo format Quello per argomenti in cui parliamo di roba relazionale Parliamo di roba sessuale Parliamo di roba psicologica Parliamo di cose che ci angosciano nella vita Però ci danno anche tante gioie E sono qui con una delle persone più importanti A livello di ispirazione Dal punto di vista proprio di carriera Dal punto di vista intellettuale Una mia grandissima amica Nonché scrittrice della prefazione Di quello che è il mio libro E siamo qui con Martina Ferrari Grazie, grazie per tutta questa prefazione Stavolta l'hai fatta tu a me Grazie, grazie infinite Penso lo stesso di te comunque E... E ti ringrazio per l'invito Eh, figurati Grazie a te per essere venuta qui Allora, oggi Allora, intanto ti provo a presentare un pochino Poi mi piacerebbe Cioè, preferisco che ti presenti anche un pochino tu Tu sei psicoanalista Psicoterapeuta Psicologa E... Poi? Dici tu Io non saprei come definirmi sinceramente Perché non credo che Siamo quello che facciamo Ma... Entrambe le cose, sì, forse Però sì, ok Mi hai presentato abbastanza bene Sono una psicoterapeuta Psicoanalista Sono anche laureata in lettere e filosofia Ok Quindi è una persona che Con i libri c'ha avuto poco a che fare Cioè, non te piacciono No, poco Ok Ma in realtà per me è una strategia di coping Non lo faccio perché sono una persona Chissà Cos'è una strategia di coping Per chi non lo sapesse? Allora, una strategia di coping È un modo che noi inventiamo Creiamo sulla base di come siamo fatti Per poter affrontare delle situazioni scomode o difficili Ok Quindi tipo Non voglio uscire perché ho l'ansia sociale Credo che tutti mi giudichino Che io valga poco Che io non meriti di essere accettato In un certo gruppo, eccetera, eccetera Quindi io sto a studiare 12 ore Ok E cerco di prendere dei voti alti Perché così io trovo un mio safe space All'interno della scuola E non mi succederà niente Ok Oppure sono indisponibile emotivamente Quindi mi vado a cercare persone fidanzate Che vivono in Nuova Zelanda Certo Io sono una grande esperta per esempio in quello Non l'hai messo nella presentazione Adesso lo aggiungiamo Persona indisponibile emotivamente Assolutamente sì Questa è una cosa Tra l'altro ho sentito Ho letto la tua storia giorni fa In cui parlavi proprio del fatto di Del re-enacting del trauma Quindi di rimettere in atto il proprio trauma relazionale Che è un concetto secondo me fighissimo Un concetto che fa parte tantissimo Non so se è ancora di più di prima dell'affettività odierna Perché credo ci sia anche un po' una spinta Verso una dimensione più evitante dell'affetto Che ne pensi? Assolutamente sì Anche perché poi il concetto di affetto Il concetto di affetto viene dopo Prima noi abbiamo il concetto di pulsione E poi abbiamo il concetto di relazione oggettuale Quindi in realtà noi per re-enactment del trauma Intendiamo a livello di storiografia del trauma La classica equazione a ripetere freudiana Quindi sì Facciamo delle cose che ci fanno soffrire O che ci hanno fatto soffrire Le facciamo di nuovo per tentare di controllarle È un po' come dire Un finale diverso Sì 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 Abbiamo una speranza Cerchiamo questa speranza Per continuare a vivere E dare un finale diverso A qualcosa che ci ha fatto male Cerchiamo nuovi attori sociali All'interno del nostro contesto Quindi basta attraversare una via E se quel giorno L'inconscio fa qualche scintilla Possiamo ricominciare subito il nostro game Ok Sì che poi è un po' anche Tutta la filosofia alla base del testing Della Control Mastery Teori Che è una teoria Diciamo credo di origine psicoanalitica Che poi in realtà Dà più bacetti al cognitivismo che altro Sì un buon mix Sì E infatti super fun E praticamente si basa molto Il concetto della Control Mastery Teori Sulla questione del testing No? Quindi Che un po' avviene dalla coazione A ripetere Quindi il fatto di Mettersi di fronte Al proprio Agli propri schemi traumatici Quindi cercare persone Che riescono a Raffigurare Rappresentare E far ripetere Di fronte a noi Questi 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 schemi relazionali traumatici Col fine di vedere Innanzitutto Come reagiscono loro Quando noi li mettiamo alla prova E gli facciamo quel numero lì Che ci facevano a noi E vedere se Che credo sia test by compliance Questo qui non mi ricordo Non compliance o compliance Che poi in realtà Se ci pensi La psicoterapia stessa È un tentativo Inconscio Di Reenactment del trauma Perché noi che cosa facciamo? Andiamo da un terapeuta O da una terapeuta Con tutto il nostro bagaglio Traumatico Di configurazioni Di schemi interpersonali Entriamo nella stanza Arriviamo nella stanza E continuiamo Ad agire E testare E questo è il transfert In realtà Su cui si basa La psicoterapia E nella control master theory C'è appunto Il test Il terapeuta Io lo testo Lo testo Lo testo Però non avrò la risposta Che credo di ottenere E che è scritta Nel mio schema interpersonale Quindi in un certo modo Il terapeuta Va a disconfermare Le tue credenze traumatiche Però i fidanzati E le fidanzate Non lo fanno Questo E soprattutto I fidanzati Anche se sono del settore Non vi cureranno Questa è una cosa importantissima Ah mi trovo il fidanzato Terapeuta E quel cazzo Anzi penso sia importantissimo Un lavoro Uno sforzo Nonostante non sia ancora terapeuta Uno sforzo grandissimo Che faccio È quello di leggere Le cose con più lucidità possibile E pochissimo Con gli occhi della psicologia Anche perché Uno è disfunzionale Due è impossibile Tre Che palle Una stanchezza sovraumana Non lo farei mai Anzi Nella vita privata Appunto Io sono con lei Che cerca persone Emotivamente indisponibili Perché tutto il giorno Reggo Capito Quindi in realtà Poi ho bisogno di uno sfogo Ok Io ancora Ma so che Non è carino Che sia così Però insomma La verità E se lo dico Anche su Instagram No io ancora Non lo so Che tipo di persona cerco Solitamente In realtà Non la cerco Emotivamente indisponibile Io la trovo Emotivamente indisponibile Il mio analista Potrebbe stare Potrebbe fare un podcast La prossima volta Lo chiamiamo Assolutamente Si sarà contentissimo E Parliamo di una cosa Abbiamo parlato un pochino Di appunto Il reenactment Il reenactment Del trauma E un pochino Di relazioni Oggi mi piacerebbe Parlare di rotture Tu che visioni hai Della rottura Ti spiego Un pochino Che cosa Sono arrivato Ad elaborare Ultimamente Leggendo anche Un libro bellissimo Che si chiama La fine degli amori Di Claude Meren Lavorando anche Tanto in terapia E Insomma Interessandovi L'argomento rotture Perché è un mondo No È una di quelle cose Secondo me Nelle relazioni Che viene vista di più Come dicotomica Quindi Ti ha lasciato Perché La ricerca del perché Il cercare di Compensare Il cercare di fare A gara Col partner A chi si riprende Tutte queste cose Culturalmente viene vista Così la rottura Sempre in modo molto Dicotomico Come il tradimento E tanti altri argomenti Invece La rottura C'è Una potenza E soprattutto Delle dinamiche Incredibili Mi ricordo Di quando ho letto Appunto Il libro di Claude Meren Del fatto Del fatto Che avvenga All'improvviso Lei dice Te arsina Mattina E chiudi Una relazione Oppure A un certo punto Una persona Te cara Fa quella cosa Per l'ennesima volta E quella persona Scompare Alla tua vita Come se fosse morta È incredibile In realtà Noi elaboriamo Per lungo tempo Spesso Una rottura Una separazione Sembra avvenire All'improvviso Ma quell'improvviso È sostanzialmente Un tempo Precedente È stato un percorso Per svegliarci Quella mattina All'improvviso Noi abbiamo attraversato Un sacco di boschi E siamo arrivati poi Lì a quella mattina Io dico sempre Che per il cambiamento Comunque per Un'azione Che fa cambiare una cosa C'è bisogno di tre step Il primo è la consapevolezza Il secondo Il terzo È il cambiamento stesso E il secondo È rompersi il cazzo Io penso che quella mattina E te svegli La mattina in cui Uno si è rotto il cazzo È evidente Che sia esattamente così O forse Qualche strategia di coping È andata A livellarsi Un pochettino È diventata Meno massiccia E di conseguenza Perché sai A forza di fare Goccia cinese Atteggiamenti Che mi scocciano Atteggiamenti Che mi scocciano Atteggiamenti Che mi scocciano Io mano a mano Inizio a realizzare Che probabilmente Sarei meno male Se tu non fossi Nella mia vita Sì Che poi è difficilissimo Anche Cercare di abbracciare L'idea Cioè In realtà È Difficile Da percepire Consciamente Ma secondo me Inconsciamente Percepiamo tantissimo Quanto sarà impattante L'assenza Di quella persona Quindi di tutta La rotazione Se ci pensiamo Anche una relazione Di uno sputacchio Di tempo Quindi pochi mesi Oppure Ancora peggio Una frequentazione Perché la frequentazione C'è tutta la potenzialità Quindi chissà Come sarebbe andata E quindi Quella cosa Te sdraia più di Una relazione Di sei anni Che ti ha consumato E quindi C'è quel discorso Che inconsciamente Percepisci Quanto vuoto Ti darà Consciamente Magari Lo immagini Lo immagini Però Sulla base Delle tue credenze Schemi interpersonali Non è detto Che poi sarà così Assolutamente Quindi è più Un trailer Che tu costruisci All'interno Della tua testa Che ti fa spavento E quindi Ti impedisce In un certo senso Di percorrere la strada Che senti Di voler percorrere Ma poi quando ti trovi lì Le difficoltà Ci sono Sono brutte Ma sono altre Sì E poi invece Quando Quando succede La rottura Ci ha Porta È proprio Immanente Alla rottura È il cambiamento Cioè Ti cambia La vita Punto Non c'è poi Fancazzo Ti cambia Punto E quindi Questa cosa qui In un certo senso Hai fatto talmente Tanto rumore Come un vaso Antico Preziosissimo A cui hai tanto tenuto Che all'improvviso Si rompe I momenti Che seguono Quella rottura Sono talmente Tanto traumatici Che sono Silenti Ma dentro Succede il mondo Sì Succede anche poi Un cambio Anche nella sfera Più pragmatica No Assolutamente Te cambia La giornata Sì Pensiamo La bare routine I messaggi del mattino Chi fa la spesa Cosa cuciniamo A che ora Ci vediamo Gli amici Se ce l'abbiamo In comune Che poi di solito Un po' Sempre così O quasi così Anche chi ha Una relazione A distanza I treni Le scene L'abitudine I posti Guardare Quella roba Dal treno È veramente Tutto qualcosa Che ci compone Dentro Che poi va A svanire Abbiamo perso Pezzi Sì Assolutamente Mi ricollego A una cosa Che ho detto Poco fa Alle relazioni Di anni Che quando finiscono Non ci distruggono Come pensiamo Parliamone Probabilmente È passato Molto tempo E siamo stati A lungo Nel bosco Ok Sì Sì Concordo Secondo me Non è manco Un discorso Cioè a lungo Nel bosco Poi non è detto Che sia una questione Temporale No È una questione Più Di dentro Di modo In cui Permani Nella questione Quindi forse Anche una questione Di stanchezza Sì Che diventa quasi Liberatoria Sì Di stanchezza E di intensità Della stanchezza Credo anche Del tentativo No Di cercare Di sistemare O di allineare Le L'intenzionalità Di entrambi No I membri della coppia Poi Si vede Che non si riesce A farlo E allora sai Dopo tanto tentare Entrambi Si stancano un po' Quindi È Quasi come Una fine naturale Come una morte Per vecchiaia Che dicono Che non esiste Comunque La morte Per vecchiaia C'è Galimberti Che dice Non stai male Perché Non muori Perché stai male Stai male Perché devi morire È un po' Quello È un po' La cosa Estende anche Alle relazioni Credo sia Importantissimo Sottolineare Quanto Adesso Il per sempre Le nozze d'oro Siano Fondamentalmente Irrealizzabili Che dovremmo Cambiare il modo Di concepire Le relazioni Dal punto di vista Qualitativo Non guardando più Al tempo Anche perché Chiunque C'ha avuto Un'esperienza Relazionale Che è durata Magari un anno E ce ne ha avute Artred 10 Che è quella Un anno La considera Qualitativamente migliore Quindi è una cosa Che si ascolta Anche sulla propria pelle E non è Intensità Direi Sì Intensità E matching Tra le due persone Perché Quello che magari Io riesco a creare Con una persona In un anno Non lo riesco a creare Con un'altra persona In 10 Assolutamente Assolutamente Anche come Ci sentiamo Con l'altro E quello che vogliamo fare E quanto Ci incontriamo E in questo Senso Secondo te Come si fa A distinguere Una questione Di love bombing Magari Una dinamica Di love bombing Che si può creare Tra due persone Che hanno Questo match Così forte E un sano Match Così forte Questa è una domanda Interessantissima Io direi Kamikaze In tutti e due casi E amene Poi al massimo Il problema È il terapeuta Non lo so Cioè Credo che Come distinguere Un love bombing Da Un attaccamento Reciprocamente Simbiotico Se ho capito bene Sì 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 Però sano Sano Cioè Non necessariamente La dinamica Bisogna cercare di capire Quanto spazio c'è Per il nostro respiro Sì E secondo me Anche se c'è Un intento Più o meno Consciamente manipolativo Sì Nel love bombing Quello che succede Specifico Che cos'è Il love bombing Per chi non lo sapesse Sono tutte quelle dinamiche Che avvengono Soprattutto nelle prime fasi In relazioni I primi tempi Anche molto a stretto giro Da parte di una persona Verso l'altra E la persona vittima Di love bombing Viene bombardata Fondamentalmente D'amore Attraverso gesti Attraverso parole Cioè si alza subito Tantissimo la posta E questa cosa qui Ad alcuni individui Ad alcuni Possono essere spaventati Altri possono essere Tremendamente attratti Perché Fa sentire un po' desiderati Pensare Sì Ci fa sentire concretamente Amati Voluti E a volte Mettere in atto Meccanismi Di love bombing È una cosa intenzionale Secondo me È più raro Di quando invece Non è intenzionale Perché magari Ci sono delle persone Che lo fanno E non se ne accorgono Sì Sì Cioè dicono Ok sto sentire qualcosa Metto subito in atto Metto in atto Cioè come Un agire Un agire Un agire È difficilissimo Secondo me Ponderare il proprio amore Nel momento in cui lo si sente Anzi io sono super fan Del esprimere l'amore E non stare con la Cintura stretta Di no È troppo presto Poi scappa Cioè Siamo qui 80 anni Sulla terra Se proviamo un po' D'emozioni D'innamoramento Sentimole Vivemole No Però allo stesso tempo È bello quello che tu dici Però di solito Le persone Ci sono anche quelle persone Che hanno paura E io un po' le capisco Paura di rivelarsi troppo Sì ma anche paura Di avvicinare Proprio loro stessi A quello che stanno provando Certo Quindi preferiscono Mettere un muro magari No E per capire Che cosa stanno provando È un viaggio incredibile Difficilissimo Bellissimo Avvicinare loro stessi A ciò che stanno provando Mannaggia a te È bellissimo Penso sia una roba Dentro tante cose Delle relazioni Questa Ed è difficile Non è una cosa semplice Perché fa un sacco di paura Anche un discorso identificativo In realtà siamo nudi appunto Sì 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 perché nel libro C'è un discorso di Nudità Cioè il libro parla di nudità Concreta Quindi fisica E di nudità emotiva E di quanto sia difficile Al giorno d'oggi Ma in generale nella vita Spogliarsi avanti all'altro E poi si parla anche Di venire e svenire Che cos'è lo svenire In una relazione Anche vicino alla fine Di una relazione Svenire vicino alla fine È particolare sai Svenire all'inizio Lo trovo più possibile Quindi dopo magari Lo svenire è un'attivazione Proprio Somatica Importante Di quelle proprio Tachicardie È una reazione vasovagale Quasi a quanto mi piace E allora io svengo Ok E ho paura Di non piacerti Tipo le fan di Michael Jackson Con Michael Jackson Ok Esattamente E anche paura Di mettersi a nudo Perché nudi ci si sente Quando noi abbiamo paura Di rivelarci I nudi davanti all'altro È perché Ci sentiamo già così Ok 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 E questo credo Non vogliamo essere scoperti E quindi Eh certo Ci vediamo all'ospedale Infermeria Con la flebbo Se vuoi mi vedi lì Ma nudo Non esiste E questa cosa Credo Accada molto Anche dopo Che ci si rimette In gioco Sì Dopo la fine Di una relazione Assolutamente Io mi incazzo Sempre un pochino Con le persone Che biasimano Le persone Che dopo La fine Di una relazione Cominciano a divertisse O che magari Si rimettono subito In un'altra relazione Cioè Può servire Può servire assolutamente Non è detto che sia poco Autentico O compensatorio Assolutamente no Se ritorniamo al discorso Del bosco Quindi quella persona Che aveva lasciato Da tantissimo Dentro di sé La persona Che stava malissimo In una dinamica Nel momento in cui finisce È quasi È come se te vai A mangiare Un hamburger Dopo che sei stato a dieta Sei mesi Cioè è automatico Fa parte anche di un percorso In realtà Fa parte del percorso Del bosco stesso Perché Sono passati tanti anni Per maturare Tutto il percorso Di conclusione Della relazione Per portare noi stessi A un punto E poi Conosciamo un'altra persona Anche se sono passati Pochi giorni Perché no Mi viene da dire Concordo Affronto sempre così Questa cosa Perché no O soprattutto La domanda più importante Per te Cosa significa Questa cosa Sì Là si può ritornare Al discorso Dell'oggetto No La relazione oggettuale Cioè l'oggettificazione E l'altro Dal punto di vista affettivo In questo senso Rimanendo anche un po' Nel topic Della fine delle relazioni Perché il tradimento Porta molto spesso Alla fine delle relazioni Secondo me è molto Questo è anche un peccato Sì concordo Cioè secondo me A volte possono essere Qua dire Sarà una cosa Che magari Verrà criticata Però it is what it is Cioè Il tradimento è uno strumento Assolutamente Cioè questo è oggettivo Sempre e comunque Il tradimento è uno strumento Di comunicazione a se stessi Di comunicazione all'altro Come ogni esperienza Solo che questa è un'esperienza Sia individuale Che di coppia Molto intensa Nello stesso momento Cioè È un'esplosione Però una coppia Può resistere Anche alle esplosioni Ma non si tratta di resistere Significa Capire Capire e ricostruire Anche avere capacità Voglia e disposizione A ricostruire Cioè Non è detto che il tradimento In sé significhi C'era Woody Allen Che diceva una cosa Del tipo Se non l'ho detto Anche in qualche altra puntata Ti ho tradito Solo per vedere Se riuscivo a provare Ancora orgasmi multipli Cioè Che è grevissima Come battuta No? Però allo stesso tempo Spiega L'ho fatto per te L'ho fatto per te Per cercare di capire Se C'era ancora Era un problema mio Oppure era un problema nostro Che è tremenda Non è una cosa da promuovere No? Dal punto di vista morale Però allo stesso tempo Il tradimento In questo senso Il fare In psicoterapia Però non si fa a moralità No 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 Assolutamente Assolutamente Però Voglio anche Dare un occhio Magari sia più pop Perché il tradimento È un Più pop È più culturale Perché il tradimento È sempre visto Come un argomento Demoniaco È vero E io quello che cerco Di fare da sempre È di Cerchiamo di guardarlo Però fa parte della vita Può succedere Cazzo Qualsiasi tipo di relazione Sia sentimentale Sia non sentimentale Ed è anche un banco di prova Un po' per evolvere Noi stessi No? I tradimenti Che ho vissuto Nella mia vita Mi hanno insegnato Un sacco di cose Cioè se io non avessi Vissuto quei tradimenti O se non avessi tradito io Se non fossi stata tradita Non sarei la persona Che sono oggi E forse mi dispiacerebbe Sì no Mi sono offerto un sacco No concordo Mi trovi d'accordissimo Mi trovi d'accordissimo Condivido Cioè anche perché poi Io credo che il tradimento Subire O fare Un tradimento Sia Uno di quei meccanismi Per cui vale la regola Di Mike Tyson Che diceva Tutti hanno un piano Un'aspettativa Finché non ti arriva un pugno In faccia Lui parlava di game plan Nella box Quindi tu c'hai il piano E dici Ah sto più difensivo Daria una bomba in faccia Non capisci più niente Il stesso discorso O il tradimento Tu c'è per avere L'aspettativa che dici No sicuramente la lascio Lo lascio Oppure no Ci sto insieme Poi quando ti succede Che te pia qua Dove sta la ragione E la tua aspettativa No? E questo vale Come per il discorso Di Io ho visto tantissime coppie In cui la persona Che aveva lasciato Stava molto peggio De chi era stata lasciata Assolutamente sì Quello è proprio Un grande classico Disney Perché lasciare Un'assunzione di responsabilità Molto forte Quindi effettivamente Quello che tu dici Ha delle motivazioni Molto importanti Perché è un atto intenzionale Ti stai assumendo Le responsabilità Di quello che stai facendo Se sei una persona Che tende a provare Senso di colpa Può essere Un'esperienza devastante E poi l'altro Ti chiede perché E tu non hai detto E gli esappi Risponde a quel perché Non sempre c'è proprio Un perché Il perché si scopre Anche nel tempo Cioè io posso scoprire Perché ti ho lasciato Anche tra dieci anni Quindi ti posso dire Il perché di adesso E probabilmente Perché Mi sono rotto il cazzo Sì 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 Proprio Il discorso di prima Della seconda fase Del cambiamento Può essere anche Solo semplicemente Secondo te è brutto Dire a una persona Oddio Con chi stavo a parlare Stavo a parlare Con un mio amico Giorni fa E parlavamo del fatto Di quando vuoi smettere Di vedere una persona Che sia la cosa Più leggera del mondo Che sia anche Una frequentazione E lui diceva No io gosto Perché le persone Non capiscono Che a me A un certo punto Non me va E se io gli dico Non me va Si incazzano E quindi le gosto Che non è proprio Diciamo la strategia Magari questa persona Non si sente A proprio agio Nel Puoi ricevere La reazione Incazzata Della persona Sì 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 Che ci sta assolutamente Io so una persona Che se le accolla Quelle reazioni E meglio senza Cioè Se campa molto meglio Ma non lo vedo Come un discorso Di cotardia Quel tipo tipo Cioè alla fine Il ghosting È demonizzato E tutto quanto Però sai Non voler uscire Con quella persona È qualcosa che tu provi Quindi per quanto Possa essere magari difficile Per l'altra persona Perché vuole continuare A vederti In un certo senso Andrebbe rispettata Il sacrificio Esatto Cioè Altro aspetto Importantissimo A proposito Delle rotture Dobbiamo imparare A rispettare Quando l'altro Non ce va più Ma Se posso Anche per noi Sì Soprattutto Se non vogliamo fare Questo per l'altro Facciamolo per noi Perché Se una persona Non vuole proseguire Il percorso di conoscenza Con noi Perché Noi ci meritiamo Questo effettivamente A parte Forse è meglio Non parlare di merito Ma Credo che tutti Desideriamo No Essere Voluti Desiderati E Una persona Che voglia uscire Con noi Serenamente Sì Sì Se invece Non voglio uscire Con te Io credo Che sia un'evidenza Incredibile Io Forse L'allibio Posso chiedere Perché Ma poi finisce lì Ok Grazie Sì No Ci sta Io credo Che ci sta Chiedere Ci sia chiedere Perché Anche perché Uno può Fa Perché ti permette Di elaborare Due o tre Cazzate Per non andare In crush Sì lo so Però io non fonderei Tutta l'elaborazione Di una rottura Sul perché Dell'altro Soprattutto Sul perché Dell'altro Perché Anche bene Chiedersi perché Tu chiedi perché E continui a insistere Davanti a un dato Così evidente Il perché Viene proprio preso Come l'unica fonte Di risoluzione Del dolore Di una rottura Eh ma perché Mi ha lasciato Perché mi ha Gostato Perché Mi ha tradito No E perché mi ha tradito Forse se ci vuoi provare A rimanere insieme C'ha molto senso Ma quando una cosa È finita Il perché È ciò che Concretamente Poi ti fa rimanere Attaccato più di tutto Alla relazione In cui stavi E al tuo schema Disfunzionale Al tuo schema Disfunzionale Assolutamente Cioè è proprio Che sei lì Ti incrognisci Cibi il tuo schema Interpersonale Completamente Disadattivo Lo stai cibando Con il perché Sì sì Perché poi L'altro non ti dirà La verità Secondo te Quindi tu darai La colpa a te Quindi ti confermerai Un altro schema Fatto di tot aggettivi Che tu autorivolgerai A te stessi All'altro E questo non farà sì Che aumentare Le probabilità Che la prossima relazione Sarà una relazione Che ulteriormente Va a confermare Questi schemi Che tarantella Esattamente Sì È una grande tarantella Troppo È una cosa Veramente massacrante Io penso sia Molto importante Anche l'accettazione Io nel mio percorso Terapeutico Vengo da tanta Cognitivo comportamentale Quindi anche da tanta Accettazione Per questo poi ho chiamato Anche il libro È quello che è Perché è così Non può essere sempre Natale Il perché Il sottotesto Il sottotesto Io sono super fan Dei sottotesti No? Delle cose Però a un certo punto Conta quello che ascolti Sulla pelle Conta il come stai Conta quello che c'è stata fa E con questo ti chiedo Secondo te Dopo la fine di una Di una relazione Che c'è stata fa? Tu mi dirai Dipende dall'individuo E io dirò Lo so Dipende molto dall'individuo Io direi Cambiare le lenzuola Cambiare le tende Farei Cambierei Tutto quello che è tessuto Che è un po' come Cambiare la pelle Ok Quindi anche seguire E assecondare L'inevitabile cambiamento Che verrà Assolutamente sì È difensivamente Credo una buona scelta Concordo Perché altrimenti Cosa facciamo? Se andiamo contro Questo movimento Cosa Potrebbe succedere? Cioè Si inghippa un pochettino Il tutto Che peraltro è già Eh Secondo me Rischite Fa la fine delle persone Che devono necessariamente Ricorrere al no contact E quindi poi a un certo punto Ad arrivare a non distaccarsi Quasi per niente Dalla situazione Da cui si è usciti E dover fare Fondamentalmente un distacco Così radicale Così importante Così doloroso Perché poi il no contact Sì Dopo una settimana Dici oh che bello Non lo penso più Non la penso più Dopo una settimana Così velocemente Sì sì Succede Secondo me è una cosa Il no contact è anche una cosa Nel momento in cui Quando è intenzionale Non letto su Google Quando è intenzionale O quando è consigliato Un terapeuta Secondo me Ok Nella stanza Sì nella stanza E quindi quando tu hai Quella iperaccessibilità De pensieri O del partner I pensieri intrusivi Che stai sempre Guardi Sta madonnina E pensi Alla pruzia Che pregava Tutte le domeniche E dici Non è possibile Che io so Perché guardo la madonnina E penso Al mio ex O la mia ex E quindi col no contact Succede che dopo una settimana Te ne liberi Però poi Ti arriva Taggato Nelle storie De Quella persona E ci ha vicino Dei capelli lunghi O dei capelli corti Con dei tatuaggi E te sterena Sta cosa Tantissimo Te sterena Noi Io e la mia migliore amica Siamo reduci Da un matrimonio In cui abbiamo rivisto I nostri ex Dopo anni Ti devo dire la verità È stato molto impattante Qua si può utilizzare Trigger Sì un po' sì Eh ma io penso che Cioè sono delle notti Che sto facendo sogni strani Perché secondo me sto elaborando Una roba strana Per cui una persona Non la vedevo da 12 anni E poi l'ho rivista di botto Per questo matrimonio E sto facendo dei sogni Veramente orribili Però so che Mi è servito E mi servirà Sì assolutamente Però lì per lì Non stavamo bene Io e la mia migliore amica Eh no te credo Eravamo molto attivate Io penso pure l'ex delle medie Mi infastidirebbe E c'era anche l'ex delle medie Per questo matrimonio Quindi io non potevo Cioè praticamente È stata una Do d'Arzavi Arzavi Era tutto un disastro Tremendo Tremendo È stata una grande prova Di resistenza Per il mio inconscio Cazzo Tu come la pensi Rispetto al Rimanere in buoni rapporti Ti devo dire la verità Se non succede Qualcosa Che è irreparabile A livello proprio interpersonale Al di là Della questione Dei sentimenti No tramite Ma proprio Dal punto di vista umano Perché no? Cioè perché non possiamo Restare in buoni rapporti? Magari dopo un po', ok? Quindi all'inizio Possiamo non vederci Non sentirci Magari questa cosa La negoziamo un po' Per capire come preferiamo Allontanarci E salutarci E poi vediamo Quello che succede Anche con il tempo Però per esempio Le persone con cui Non parlo E ho avuto una relazione Sono poche Rispetto alle persone Con cui parlo E con cui sono stata Ok Io invece tutto il contrario Cioè è molto difficile Che io abbia interazioni Con persone con cui sono Con cui sono stato Al massimo le recupero Dopo anni Esatto E ok Però Al di là Del mio punto di vista Della mia esperienza Ci stanno tantissime persone Che dicono Fanno un ragionamento Che secondo me Chi può stare Che è Se mi lascio Con una persona In cui Con cui avevo una relazione Con determinati ruoli Quindi fidanzati O le fidanzate E quella persona Poi non ha più Quel ruolo Nella mia vita A me cosa cazzo Me ne frega Di rimanerci In buoni rapporti E in quel caso Dico Ha senso Cioè tipo Cercare l'amicizia Una presenza Che faccia magari Un pochino da palliativo Rispetto alla rottura Non lo so Poi se te la vivi bene Funziona Sempre whatever works Basta che funzioni Ma sai Per me buoni rapporti Significa salutarsi Ah sì No vabbè Io mi saluto Con tutte le mie ex Cioè nel senso Gli auguri di Natale Alcune non l'ho ancora riviste Non uscire insieme A berci una birra Ok Tipo Io E Il mio ex Pensi che l'ex O la ex Possa Sempre Comunque Rifare effetto Da un punto di vista Sessuale No No A me è successo Ci stanno Le persone Che Quando l'ho riviste Rincontrate Ho provato Zero attrazione Ma proprio Non esiste Ma non roba Che facevo Zero Che pensavo tipo Dio come facevo No Cioè No proprio zero Cioè è proprio un discorso E dico Prima sì No niente E altre persone invece C'è quella cosa Da Marvel Che dici Come cazzo Qua c'hai in superpotere Vattene via Niente Questa cosa non è mai successa Anche perché Purtroppo Una di quelle Che lascia Dopo Tutta una serie Di Accordi Importanti Quindi se io Arrivo a quel punto Io non Cioè è proprio Improbabile Che io provi Poi Un'attrazione Sessuale Infatti mi hai fatto Pensare che A me mi è successo Con l'unica persona Con cui Io ho sempre lasciato Avevo lasciato io E poi io sono tornato Un pochino sui miei passi E lei a quel punto Mi ha detto Che te sei in culo E allora lì Dopo anni C'è ancora la cosa Che Però giusto Giusto Per il resto Mi succede sempre Che proprio Non mi interessa più Che ne pensi Il sesso tra ex partner Secondo me Il sesso tra ex partner Quando ci stanno i presupposti Se Si riesce a fare Con Un grandissimo sforzo Ma no Secondo me Non è nemmeno Tanto uno sforzo Quanto una predisposizione E un'intellettualizzazione Prima Una bella Corazza fatta Di razionalità Intellettualizzazione Negoziamo Qualsiasi cosa Si E tanto dialogo È una bomba Non è mai successo Quindi non te lo so dire All'infuori di questo Secondo me È Drama Shakespeareano Deve essere particolare Trovarsi È di un giocoso Incredibile Perché Tutti Per ridere Vero un po' Sì C'è quella cosa Oddio che imbarazzo Mamma mia E poi dici Eh ma Dieci anni fa Però Non eri così brava Capito C'è un po' quella cosa Oppure chissà cosa Starà pensando Quelli che ci sono stati Nel frattempo Sono meglio di me Ora o di me Tutte quelle cagate Lì da maschio E poi c'è la roba Una cosa Una cosa che Secondo me È Distruttiva Proprio Dal punto di vista Neutro Non necessariamente Negativo Quando a un certo punto Ti rendi conto E dici Cazzo ma io non la conosco più Prima la conoscevo come le mie tasche E ora non so più chi è Perché sono passati Ma noi siamo sicuri Di aver conosciuto Quelle persone Come le nostre tasche O era Assolutamente no Un nostro loop Assolutamente Perché c'è molto questo A voglia A voglia Motivo per cui Si arriva a tantissime rotture Tante volte Se fa Noi non abbiamo Molta Molta Molto coraggio Di andare a conoscere Davvero una persona E l'altra persona Non è che ha così Tanto coraggio Di farci conoscere Io credo che noi Esercitiamo I nostri esistenzi Qua sulla terra Al 10% Delle nostre possibilità Emotive più o meno Tutto il resto È misconosciuto Sia a noi Che agli altri E di conseguenza È come se noi Ci incontrassimo Sempre da sconosciuti Quindi poi In quei momenti là Questa roba sale Vertiginosamente E si effettivamente Ci prende un coccolone Importante Che può essere Anche eccitante Sì 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 Eccitante oppure Quella può essere Una cosa A cui appigliarsi Sì Sto a riprovare La stessa attrazione Che prima Gli sto per i anni a sotto Però allo stesso tempo Ma non è vero Che ne so di chi è Cioè Alla fine Mi sto a bomba Quella di 10 anni fa Capito com'è È un po' quello Il concetto Cioè chissà il tessuto No? È cambiato Abbiamo cambiato Questo tessuto Magari Che giochi Il ruolo fondamentale È la mancanza Di conoscenza Di approfondimento Dell'altro Cioè era uno studio Che credo In facciamo L'ho citato 450.000 volte Che è quello In cui dopo due anni Si smette di conoscere Il partner Perché si creano Fondamentalmente Gli stereotipi Che sono adattivi Quindi è normale Tu conosci la persona E' così Poi capirai Cioè Vinci a convive E quindi Dici Ah no Sì ok Si sveglia la mattina A quest'ora Eppure quando Noi li mettiamo All'interno Di alcuni schemi E in un certo modo Sono un po' Dei pacchetti Predefiniti No? Sì E non lasciamo Spazio al nuovo Quindi il tempo Si blocca Anche la temporalità Si blocca Quindi anche Il divenire della coppia E quindi pure Quello di noi stessi Beh ci vuole Un bel tradimento Ci vuole Una bella rottura Un bel tradimento Un bel casino Perché poi A proposito Di tradimento Di stereotipi All'interno della coppia Questa roba Succede quando c'è Mancanza di comprensione Quando non ti senti Linkato Capito Abbracciato dall'altro Perché tu stai lì E quella persona Ti dice Ma io ti conosco Tu sei fatto così Sei fatta così Bisogna anche Sapersi esprimere Sì E bisogna Lascia spazio all'altro Per entrare Altrimenti Le relazioni Non si fanno Se non vuoi conoscere L'altro Se non ti vuoi far conoscere Cioè Più che altro Le puoi fare Però Rimangono in un determinato livello E magari te va pure bene Sei la persona più felice del mondo Ripeto Basta che funzioni Però Basta che funzioni È vero Perché Il tipo di relazionalità Di cui noi stiamo parlando È abbastanza deep Sì Cioè Però appunto Secondo me La mancanza di comprensione Di avvicinamento All'altro Cioè Se l'altro Ha una certa Non ti capisce più È nefasto È nefasto Perché Dopo due anni Quella persona Smette di conoscere Tu smetti di conoscere Quindi quella persona Tu dici Non mi capisce Perché È stronza Oppure perché È poco empatica E l'altro Non ti capisce E dice Questo non lo capisco Perché è scemo Perché è maschio Oppure perché È donna E ha le sue follie Tutte queste cose qui In realtà è un processo Che si è bloccato No? Sì E noi Discorriamo di Mele, pere, banane Invece di discorrere Che il processo Si è bloccato Sì E poi vai da Peppe Vai da Peppe Tipo noi E A un certo punto Bisogna stare sedute Sedute A parlare di miele Pere, banane Perché per portare La coppia In quella dimensione lì Tipo Signori Si è bloccato Il vostro processo Ci vorrà un po' Non è che Si può Sparare Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto Di che cosa è successo? Eh no Si tirano la roba Nel frattempo Sì Dicono Eh no È lui È lei È lei È lei È lei E cercano alleanza Con Il prete beuta Quindi avvengono Delle triangolazioni O dei tentativi Di triangolazione Veramente Veramente Forti Molto difficile Tutto molto difficile Però è molto bello Ehm No poi Peppe può essere Anzi Che chiamiamo di nome Può essere Io Peppe Avevo dato Sì Fosse il terapeuta No io intendevo La persona con cui Magari conosce Peppe o Peppina Che sono i due amanti E vai da Peppe Ci parli un attimo E quella persona Magari in quella conversazione Capisce quella cosa Che il pischello tuo Non ha capito per anni O viceversa Nella versione E quindi ti scatta Una proiezione E un'idealizzazione Fortissima Porca miseria Allora ecco Boh e te lo chiavi Sono un guai poi Perché in realtà Era anche il contesto Cioè ci sono da valutare Un sacco di vibes Nel momento in cui Crediamo che una persona Ci abbia capito Così tanto Nel profondo Sì Io credo Profondamente Nei determinati match Che sono assurdi Sono proprio assurdi Però non è detto che Nel momento in cui Tu ritrovi così facilmente Sotto casa Quando c'è un periodo Critico in cui Con la tua persona Non c'è tanta comprensione Non ti senti Tanto capito Capita Sia necessariamente Quello Cioè a volte L'amante Anzi quasi sempre È uno strumento Ecco la persona E dici Ok Ti utilizzerò In modo chiaramente Inconscio In modo chiaramente Schematico Per confermare Disconfermare A me stesso Determinate cose Mi porteranno a Concludere la relazione Evadere dalla relazione Rimanere nella relazione Sopravvivere nella relazione Meraviglioso È esattamente questo Per quello poi Il ruolo d'amante È una cosa che Non è molto comodo È veramente difficile Anzi io credo che Amare l'amante O Cioè Amare l'amante È una cosa che si possa fare Ma è un amore particolare Cioè tu stai Ti ama l'amante Stai amando lo strumento Stai amando lo strumento È importantissimo capire Ami la tua stessa Zappa proiettata Sul martello Sì 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 Assolutamente ami Quello che quella persona Ti dà per sopravvivere Nella relazione precedente È un po' Vicky Cristina Barcelona No? E questa è una cosa Secondo me fondamentale A far capire Alle persone che fanno Stai pensando che ci sono Delle relazioni tra amanti Che sono molto ricche Sì 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 Assolutamente Però Lo sono solo ed esclusivamente Esattamente Se rimangono Nella declinazione Di amanti Sì Se lasciano i rispettivi partner E si mettono insieme Non valgono più nulla È vero Questo è proprio Grande classico Una hit estiva Sono molto tristi dopo Sì sì Dicono Ma che abbiamo fatto No? Ma t'ho visto Più dei quattro ore A settimana Eh Non ti rigiù la tavoletta Stronzo Perché si aspettava Capito? Cioè È una roba È una roba assolutamente E credo sia molto importante Da capire Per le persone che fanno amanti Che Quello è Esattamente Quello è Poi esistono le storie In cui Cerchiamo di capire Perché stiamo proiettando Una temporalità futura Su questa persona Cosa stiamo cercando noi Se siamo nel ruolo di amante Ok? Che può essere Un ruolo che ci blocca E soprattutto Chi pensi di essere Per quella persona Esattamente E chi è questa persona Per te? Sì Qual è proprio il ruolo Che hai in questo momento? Quanto te fa comodo Perché fai amanti È proprio È comodissimo Sì Sei proprio Sai Sai una gran Mamma mia È una vacanza Sì È concretamente Una vacanza Da lavoro E Perché stare in relazione È un lavoro Io penso che sia importante Poi Però è un lavoro fico Sì Sì Cioè è difficile Non è tra i lavori più facili No 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 È un lavoro fico Perché poi c'ha tutte le cose tricky Misteriose Però quelle Tante volte Qua divano una parte più giocosa E più divertente Quasi che creano quel brigo in più No? Però sì È concretamente Lavoro Che cosa significa questa posizione di lavoro Questo ruolo lavorativo Magari una parola lunga così E noi non lo sappiamo Quindi andiamo a chiedere Ma che cosa dovrei fare Ma che cosa dovrei fare Poi quando ce lo dicono In realtà lo scopriamo man mano facendolo Sì Non è roba da tutti Non è roba da tutti Com'è il physique du role di un amante? Di un amante? Sì Secondo me deve essere una persona Tanto comprensiva Tanto Attaccata ai dati Alla realtà Quindi non alla fantasia Di un cambio di rotta Io penso che Per fare l'amante Bisogna essere attaccati Alla realtà Non si può fare l'amante Se diventa una Un mezzo Per arrivare a qualcos'altro Dal punto di vista Quindi un amante Deve essere un data scientist In un certo modo Sì sì Uno statistico Uno statistico Attaccato molto ai dati Che guarda subito La curva normale Dice Do stiamo qua? Do stiamo? Quanta parvenza No? Ed è difficilissimo E deve essere un ruolo Tant'è che tipicamente Le cose Credo Tipicamente Le cose che si costruiscono Di più tra amanti Sono quelle in cui Entrambi non hanno Una grande intenzione Di andare oltre Che è possibile Che è possibile E sono quelle che poi creano Sei il mio miglior amante No? Un po' quella la roba Molto bello questo Sì Si crea Cioè È una relazione A sé E bisogna Saperla masticare Il ruolo del traditore Invece credo sia Un po' più Un po' più da capire Perché Ci stanno Secondo me Ci stanno Livelli Dei traditori Cioè È una roba che va capita A volte È una declinazione Della non monogamia Inespressa e non riconosciuta Assolutamente Altre volte Altre volte Un classicissimo Schema di coping Rispetto alla relazione Alla vita Alla vita Alla relazione All'affetto All'oggetto E tutto quanto Altre volte È Un momento Di Follia Come può essere fatto Un momento di follia? Un momento di follia? C'è una ricerca di conferme No? Sì c'è una ricerca di conferme Ma secondo me sono cose Sì il periodo Ma può essere anche la serata Io sono profondamente convinto Che alcuni tradimenti Ci abbiano a che fare Solo con delle ore Quindi Una vibe Quella cosa Che ti può prendere Magari un misto Da Ma se vive una volta sola Più Prima non mi ha risposto Per quattro ore Oppure Oddio Questi giorni C'è un attrito Cose del genere Questi giorni c'è un attrito Lo capisco Più serata Bella Con Più magari alcol Scoria dentro Più magari persona Predisposta All'impulso Con Un'affettività Particolare E lì Bum 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 Poi ti sveglia mattina dopo E dici un Dio Che ho fatto Cancelliamo tutto Anxiety Anxiety Da tradimento Io mi ricordo Da piccoletto Mi capitò di tradire Sì Te svegli nel governo Dopo aver tradito È una tragedia È una delle cose Più tremende del mondo Te svegli e dici No Vai in chiesa Te metti a confessate Perdonami padre Cioè è incredibile Tremendo Non lo auguro a nessuno Cioè credo che si arrivi Alla paranoia più estrema Sì 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 no Cioè vai in totale Dirò una cosa Augurandomi che non venga mai No in teoria Dovrei essere safe Mi è successa questa cosa Mi sono svegliato in hangover E la persona con cui avevo Quest'impiccio ai tempi Mi ha detto Stanotte mi sono sognata Che mi avevi tradito Te lo giuro Io ti lo giuro Te lo giuro Non mi ricordo Cioè la tua espressione Più o meno Sì sì mi ricordo Mi ricordo Mi ricordo Mi ricordo il colore Delle coperte Ma non mi ricordo Che cosa cazzo Che ho detto Tipo Ah stupidina Ma ti pare Cioè cose del genere L'avrò buttata Sul Abbassare E a livello Di particelle tue Proprio Fisicamente Sei evaporato Sì 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 No a quel momento C'è un livio Ante quel momento Un livio post C'è un livio Che osserva Quella scena ancora Sì 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 No paura Bruttissimo E però L'aspettatore Della mia rovina Sì 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 Assolutamente E mi ricordo Poi non è accaduta Cosa Perché non sei stato scoperto No no Non sono stato scoperto E mi ricordo Ne parlai con mio padre Tra l'altro Mi padre era una persona Molto ligia Non ha mai tradito C'è una persona Molto corretta Molto etica Dal punto di vista Relazionale E tutto quanto E mi disse Questa cosa Non è mai successa Punto Punto Questa sarà La risoluzione delle cose Ma tu ne hai parlato Con tuo papà Perché ti stavi agitando Sì perché Io papà ce l'ho sempre avuto Un po' come punto di riferimento Tipo Ma le donne Come funzionano Adesso chiaramente Essendoci avvicinati D'età D'esperienza Ne dibattiamo No Quindi ci ascoltiamo Vicendevolmente Però lì ero Molto piccoletto E quindi mi disse Questa cosa Non è mai successa Che è anche coerente Con determinati studi Che dicono Che le persone Che sopravvivono di più Dopo un tradimento Sono le persone In cui la persona Che ha tradito Non lo confessa E si impegnano Più a non farlo Cioè La classica Scappatella Sta là Non è mai successo Sta là È una cagatina Di una notte Punto E a volte Può essere considerata così Poi c'è chi può dire Eh no Però io Ma quando la scappatella Non è una scappatella Ma è una storia Eh là è un altro paio De maniche Ma proprio Maniche lunghe Perché poi entriamo Anche nello schema Di routine Sì 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 Sopravvivenza Tradire per sopravvivere Eh sì Va bene Marti Io ti ringrazio tantissimo Di essere stata qui Grazie a te Secondo me abbiamo fatto Un bella Putpurri Di relazioni Fine relazioni Tradimenti e cose Magari se ti farà piacere Ci rivedremo qui Ai microfoni Di Facciamolo E Dai Ciao 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 Grazie